ragazzi ecco qua l'ho aperto il male in face della vabbè della master però della mega constructs bello 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 proprio bello poi domani mi spiegheranno perché hanno questi fuori dietro perché ancora non ho capito forse per tenere l'arma può essere può essere come vedete cambia faccia basta girare la rotellina sopra prima da uomo ora è da bestia arriva la versione robot bello ragazzi molto bello il video è corto perché purtroppo non è che c'è molto da dire però è bello molto bello lo aggiungo la mia collezione molto presto ne dovrebbero arrivare altro fatto il preordine 15 ora un mesetto e la mia collezione continua sempre a crescere e lo spazio continua sempre a diminuire dai ragazzi ok è riuscito a versi così a fuoco da niente il video è finito vi saluto e se vi è piaciuto lasciate un like ciao al prossimo ciao ciao